andiamo a ho visto Ale che è impossibile è impossibile Ale quando è che incomincio a fare danno? données è perso ma pensi si andai a uno skit si si andai a persi niente inizialmente CHOOL CHOOL Questa è una cosa che abbiamo? Cosa che abbiamo noi? Cosa che abbiamo?